Pagliare del Tronto invasa dalle bisce. Non si placano da giorni le proteste dei residenti nella zona intorno all'istituto scolastico comprensivo, un'area ormai completamente invasa da bisce e zanzare. La protesta arriva dai residenti che sono stanchi di vivere in una vera e propria giungla e che per questo hanno scritto una lettera al sindaco Angelo Canala. Nell'area inclinata ci sarebbe un laghetto, per lo più uno stagno paludoso, dove trovano rifugio migliaia di zanzare che rendono le notti dei residenti insonni. Molti genitori poi sono preoccupati per la presenza di serpenti. Ogni giorno infatti vengono avvistate delle bisce, soprattutto a ridosso della scuola che riaprirà fra qualche giorno. Il sindaco cerca di tranquillizzare i cittadini e rispone così a tali lamentere. La disponibilità nostra è massima, ovviamente a volte ci sono anche delle situazioni dove la risposta che si chiede immediata, noi cerchiamo di sopperire anche a queste cose, tenendo conto che comunque il nostro territorio è cresciuto molto e cui in questi anni abbiamo cercato di organizzarci e evitare anche che ci siano situazioni del genere. Nei giorni scorsi sono partiti alcuni lavori per ripulire l'area, ma a falciare l'erba, dicono i cittadini, non basta, serve infatti una riqualificazione totale. I residenti di Pagliare invitano quindi il signor sindaco a venire nel loro quartiere e visitare le loro case che restano aperte, scrivono, non solo alle zanzare e alle bisce.